ingresso in campo quarta giornata Super Eleven Virtus Neapolis contro Ache abbiamo l'incontro Giampiero Capuano con le squadre che si dispongono in campo da questa parte gli Ache in maglia celeste da quest'altra la Virtus Neapolis in maglia bianca ecco il saluto per il pubblico al Kennedy Stadium e ora passano a salutare la Virtus Neapolis alla che e ora passano a che a salutare Giampiero Capuano ora ci sarà il tocco fra i due capitani da una parte maglietta dall'altra parte Ferraro scelte di palle e campo possiamo chiudere il collegamento bocca al lupo a tutte e due squadre ciao ragazzi primo tempo quarta giornata Super Eleven Ache contro Virtus Neapolis Ache in maglia celeste Virtus Neapolis in maglia bianca il stato di 0-0 seguiamo tutto il primo tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Secondo tempo Ache contro Virtus Neapolis risultato di 1-1 le reti sassuali esiglate da Caruso per Virtus Neapolis e da da Ferraro per l'Ache sul calcio di rigore seguiamo tutto il secondo tempo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.